Tre punti pesanti all'esordio per il vasto Girardi tra le mura amiche dello stadio Filippo di Tella contro il Sora. Successo con sofferenza, nonostante i laziali restano in dieci per gran parte dei 90 minuti della gara per il Rosso a Mastrantoni che affronta in modo scomposto Kaon da ultimo uomo lanciato in porta. Primo tempo avaro di emozioni, ma buono l'impatto dei padroni di casa che si fanno notare con Kaon che spreca dopo tre giri di lancette dinanzi la porta. Gli ospiti rispondono al sesto con Digilio a mettere in difficoltà la difesa giallo-blu, ma non succederà nulla. Dopo il ventesimo girillo per il Sora calcia una punizione direttamente tra le mani dell'estremo caravano prima di rientrare negli spogliatoi sul traversone di Tocco di nuovo. La punta Kaon per i molisani impatta il cuoio di testa ma la sfera termina a lato. Nella ripresa la prima vera emozione cade al minuto 12, atterramento in area di Anton Giovanni. Si presenta sul dischetto del rigore capitano Ruggieri. Dagli 11 metri la conclusione è intercettata dai riflessi di Crispino. Il vasto Girardi continua a premere alla ricerca dei tre punti, ma deve fare i conti con Bello Isi, intervento risolutore del solito caravano. Sugli sviluppi dell'ennesimo angolo per i locali si esalta Crispino su Ruggieri, ma prima del gong deve capitolare al secondo minuto di recupero, quando a trovare la via della rete ci pensa Iacovetta, subentrato nel finale a Pavone. Un gol liberatorio all'ultimo respiro per il giallo-blu del tecnico Alessio Bifini dinanzi ai propri tifosi. Amaro in bocca ai ragazzi di Stefano Campolo, quando già pregustavano di raggiungere il punticino in esterno.